Leandro Sipos, per te il sesto gol in questo campionato, è stata una grande felicità per il gol e per la vittoria. Sì, scusami, anticipo perché non parlo così bene italiano, ma proverò il più possibile. Sì, ho fatto un gol, ma per me non è importante chi fa il gol, l'importante è vincere la partita. E tre punti per noi. Questa partita era difficile perché Avellino è una buona squadra, terza in campionato, loro giocano bene. Anche questa partita era piena di emozioni, ma abbiamo vinto e siamo molto contenti. E vedremo come è ora. È stata una reazione importante dopo Foggia anche per i tifosi che vi hanno seguito qui alla Viglia. Sì, la partita contro Foggia era, come ho detto, tutte squadre, tutte squadre, scusa, e tutti i tifosi che avevano questi tipi di giocatori, dove non vengono sul giocatore, come si vogliono. E non vengono come si vogliono, e non vengono come si vogliono. Questo è stato un giocatore, come l'anno contro Foggia, perché non vengono a fare ciò che possiamo fare. Ma l'importante è che, dopo questi tipi di giocatori, tornare forti e cercare di vincere i prossimi giocatori, perché questo è l'importante. Leone vuole dire che, insomma, ha detto sostanzialmente che capita che ci sono delle partite in cui delle squadre non riescono ad entrare proprio in campo, non riescono ad esprimersi proprio completamente. E questa è stata una di quelle partite a Foggia per il Catano. Sì, per me... Che un grande partite ha raggiunto. Sì, per me la partita dopo, dopo quelle partite, è più importante, sì. Ecco, per te ha speso belle parole il mister Baldini a fine gara, dicendo che se non ci fosse stata l'esplosione di Moro avresti fatto anche tu tantissimi gol. Per me, per nostra squadra, non è importante chi gioca, è importante vincere le partite. Quando gioco e moro, lui gioca molto bene. Quando lui non è qua, gioco io e io proverò. Io... I give my best to try to do my job, come mister ha detto. Sì. Sì, mio obiettivo è dieci gol in queste cinque partite. Dieci gol io ho una cena. Sì, mio obiettivo è dieci gol e mio obiettivo è, nostro obiettivo è di entrare nei play-off e lavoreremo d'ora di più. Io ho considerato quanto riguarda l'Avelino? Scusa? Io ho considerato quanto riguarda l'Avelino. Sì, l'Avelino è, come ho detto, una buona squadra. È terza in campionato, ma io vedo noi e io vedo il nostro obiettivo. Grazie. Leo, dopo il gol hai esultato con carattere, anche sotto la curva, facendo arrabbiare qualche tifoso dell'Avelino. Sì, come ho detto, questa partita è piena di emozioni. Era piena di emozioni e queste cose io non controllo. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie a voi.